Eravamo come i Colombi, testimonianza di Giovanni Giraudo, detto Gian de Barca, nato a Valdieri, classe 1885, contadino. Parliamo degli anni attorno al 1900. Vivevo con la mia famiglia, padre, madre, tre sorelle e tre fratelli al ciabot de Barca. Avevamo 12 giornate di terra, tre vacche e due altre vacche le prendevamo in guardia. Si viveva, mio padre negoziava nei vitelli, la vita era misera, la gente si accontentava, c'era tante volte che mancava anche il pane di segala, c'era gran patate. Ecco, si mangiava gran patate. Da ragazzo andavo a lavorare alla cava di Ardesia. Ne ho portate delle lastre di Ardesia sulla schiena. La nostra baita era proprio vicina alla cava delle lastre di Ardesia. Un giorno mia nonna e mio nonno mi hanno mandato a Valdieri a prendere il pane, ma lungo la strada di ritorno avevo fame. Mi sono detto, io ne prendo un pezzo, lassù hanno solo la bilancia grossa, non se ne accorgeranno. Ne ho mangiato un pezzetto, ne avrei mangiato un chilo. Lassù l'hanno pesato e la barra andava giù e ho dovuto confessare. Eh, ci mancava anche il pane. C'era solo patate e cavalè. Patate e una specie di ricotta. Mio nonno, Gian, era del 1822. Mi diceva sempre, voi ora non vi accontentate più di niente. Una volta di nascosto dal suo padre, mio nonno, ha mangiato le patate da semente, tanta era la fame. Le ha disotterrate. Mangiavano l'erba panabeu, un'erba che fa una grana piccola, cresce nei boschi di faggio. Macinavano l'erba panabeu con la segala e facevano il pane. E pensare che i tempi di mio nonno erano già migliori di quelli di suo padre. Mio nonno ha preso in prestito le scarpe per andare al consiglio a tirare il numero d'ago scritto. In quei tempi là tutti portavano gli zoccoli d'estate e i ciambirun d'inverno. Gli stracci di lana dei ciambirun erano tenuti fermi da una pelle di capra legata con i cordini. Li ho ancora visti io, i ciambirun. Tutti i vecchi li portavano. Naru de Santana era un guardacaccia di Vittorio Emanuele II. Un giorno Naru è andato a Torino con i ciambirun. Si presenta al Palazzo Reale, ma la sentinella non lo lascia entrare. Naru insiste. Dite a sua maestà che c'è Naru de Santana. Allora avvertono il re che al cancello c'è un certo Tanara. Ma il re capisce al volo. Ah, l'è Naru, dice, e lo riceve subito. 26 soldi al chilogrammo costava la carne di vitello. Mio padre faceva dei pezzi di mezzo chilo, di un chilo, e mi mandava a vendere la carne ad Andonno. Ma pochi la compravano. Non abbiamo del pane con cui mangiarla. Se non hai il soldo, tutto è caro, dicevano. Avevo 15 anni. Dai campi alti portavo giù il fieno in testa, il fieno nel telo. E c'era un'ora e mezza di cammino. Il mio fagotto pesava 30-40 chili. Mio padre ne portava di più. Una sera l'ha pesato il telo. Era 60 chili di fieno. Se andavamo a vegliare? Tanto. Era un'abitudine. Se volevi vedere le ragazze, bisognava andare a vie. Se no, scappavano. Succedeva di tutto nelle stalle. Quando la lucerna si spegneva, si mandava la mano dove andava andava. La cosa cambia mica. Il passerotto è sempre quello. Sì, sì, è sempre quello. Magari quando c'era la madre facevamo gli angeli. Ma quando non c'era, mica tanto che quello. Facevamo, basta che sia, il passerotto è sempre quello. Il prete? Qui la gente era del prete. Mio nonno era anche solo cattolico come me. Quando avevamo altro da fare, lasciamo perdere quelle cose lì. Ma i preti comandavano. Al tempo di messa grande, a mezzogiorno, fuori della chiesa, c'era sempre un gruppetto di giovani che se la contavano. Usciva il curato, alzava solo un braccio e tutti correvano in chiesa. Comandavano i preti e se uno poi avesse avuto bisogno di qualcosa, glielo negavano. Non passavano a benedigli a casa. Lo facevano passare per un senza Dio. Qui a Valdieri i due lavori erano fare il lusatè o fare il guardacaccia. Il capo di guardacaccia era la massima autorità del paese. Viveva in una palazzina, aveva il cavallo, una carrozza, il calesse e l'attendente. Il guardacaccia aveva uno stipendio fisso tutto l'anno. Era calzato e vestito, l'affitto di casa pagato, una mantellina gratis e un carro di legna. Mio padre era bator, partecipava alle battute e poi alla sera metteva in ordine i camosci morti. Erano 300 i bator. Io da ragazzo sono andato tre anni a fare il bator. In 300 circondavamo la montagna al completo per spingere i camosci verso il re e i suoi amici di caccia. Nel 1900 sono ancora andato a fare il bator con il re Umberto. A noi giovani davano 5 lire al giorno, ai bator effettivi 10 lire. Se era un vantaggio per noi avere la famiglia reale in vacanza a Sant'Anna di Valdieri, un certo agio lo davano. Erano 30 i guardacaccia fissi, 30 famiglie che vivevano bene. In agosto la regina Elena organizzava sempre la donazione. C'erano sempre 300-400 persone che arrivavano anche da intraque. In fila si passava sul ponte e lì a ognuno regalavano 10 soldi. I reali dal palazzo guardavano. Regalavano anche qualche caramella e qualche galletta. Qui a Valdieri c'era il circolo monarchico gesso e lì andavano le autorità, la gente già un po' ricca. Poi c'era la società, la società operaia di mutuo soccorso. E lì andavano quasi tutti illusatè. Erano un centinaio illusatè. Piuttosto socialisti. Un po' mal visti perché erano come i comunisti di oggi. Soldi da spendere all'osteria ce ne erano pochi. Nelle sede di autunno, dopo le castagne, non c'era più lavoro. Non erano ancora andati in Francia. Per la Francia partivano tutti dopo i santi. Gli uomini si riunivano in tutti i cantoni del paese. Stavano lì a godersi l'ultimo sole e intanto cantavano, facevano dei bei cori. Ne andavano tanti in Francia con il fagotto. Uomini e donne. Passavano dal colle di ciriegia o dal colle delle finestre. I due passaggi abituali. Andavano solo d'inverno e qui non c'era lavoro nemmeno a due soldi al giorno. Per forza andare in Francia. Andavano anche i ragazzi dieci anni a fare i servitori. Le carte costavano poco, quattro soldi, ma tanti per non spendere andavano senza. Sono anche andato io. Avevo già sedici anni. Ma a lavorare duro. A fare il fieno e le uve nel bar. Poi sono andato a fare leite a sé. Lì prendevo di più. Trenta lire al mese. Portavo il latte in città. La cena a mezzanotte. La sveglia alle quattro per mungere. Quando uno ha la salute tutto va. Se avessi avuto del pane come ne ho adesso sarei venuto un palmo più alto. Poi sono tornato a casa per fare il soldato. Mio padre aveva tirato per me il numero. Il 101. Un numero grosso. Quando uno ha la salute tutto va. Se avessi avuto del pane come ne ho adesso sarei venuto un palmo più alto. Poi sono tornato a casa per fare il soldato. Mio padre aveva tirato per me il numero. Il 101. Un numero grosso che mi ha permesso di fare solo due anni invece di tre. La mia speranza era sempre di diventare guardacaccia. Ma ero troppo piccolo di statura. Prima di partire soldato per non perdere tempo sono ancora andato a guardare le due vacche del re. A Sant'Anna. Alle case reali. Lì vedevo sempre il re e la regina. Il re era sempre nervoso. Una volta era mattino presto. Ero lì col grembiule bianco e sull'attenti. Il re mi ha parlato. Mi ha detto. Avete già fatto il soldato? No maestà. Quest'autunno vado soldato. Farai un buon soldato. Elena invece era graziosa. Voleva sempre che facessi i latticini. Le vacche dei reali le facevano arrivare da fuori. Avevano paura che le vacche del posto fossero malate. Arrivava il camion con su le vacche dei reali e la gente diceva arrivano le vacche della regina. Dopo il servizio militare sono andato a lavorare a Olieree Saint-Etienne nelle miniere di carbone con due miei fratelli. L'altro fratello era soldato altrimenti sarebbe venuto anche lui. Lì c'era gente di tutte le razze. Anche dei greci c'erano. Avevano i turbanti in testa. Non erano ben visti. Avevano dei coltelli lunghi così. Lavoravamo a 900 metri sotto. Guadagnavo 5 lire al giorno. Avevamo buona volontà di stare poco tempo e portare a casa dei soldi. Il capo ci diceva vuoi fare ancora mezza giornata? Il turno delle otto ore finiva alle 16. Noi ci fermavamo altre tre ore. Così invece di 5 lire prendevamo 5 e 50. A volte lavoravamo anche di notte. Una mala vita. L'aria era cattiva. Mangiavamo un pezzo di pane là sotto e poi avanti al lavoro. C'erano i cavalli là sotto che tiravano i carrelli. La galleria era molto lunga e piena di topi. Pensavamo che i nostri vecchi erano vissuti ancora peggio di noi. 40 di valdieri erano andati a lavorare in una miniera di piombo e argento in Provenza e si erano piombati i polmoni. Tutte le sere si ubriacavano per disinfettare un po'. Ma sono morti tutti i giovani. I soldi li mandavo tutti a casa perché vedevo che a casa c'era la miseria. Sono rimasto sei anni di seguito in Francia senza venire a casa. Ogni tre mesi risparmiavo 90 lire. Allora prendevo in prestito 10 lire per poter spedire 100 lire a mio padre. Nel 1908, ai primi di maggio, sono tornato in Italia e ho appreso che nella mia galleria di Ollieret Saint-Etienne c'era stata una grossa esplosione. Nel 1910 decido di andare in America. Vado in America anche se sono piccolo di statura, mi sono detto. Mio fratello Bruno vuole partire con me. Non sapevamo niente dell'America. Sapevamo soltanto che del Praha ce n'erano in California, l'età 6. Abbiamo chiesto alle famiglie del Praha dove erano i loro parenti, ma non ci hanno voluto dare la direzione. Erano gelosi. Allora abbiamo pensato di andare in Oklahoma, nelle miniere di carbone. Ci siamo decisi una domenica sera. Il martedì siamo andati a Cuneo per ritirare nulla osta militare. Il giovedì eravamo già a Torino con il fagotto, con il sacco. E due giorni dopo ci imbarcavamo ad Avr. Quando si è giovani si ha coraggio. La nave era il Savoia francese. Saremmo stati 400-500 sulla nave. Quasi tutta gioventù. Francesi, italiani, austriaci, di tutte le nazioni. Certe notti il mare passava sopra il bastimento. Mangiare? Poco. Per il viaggio avevamo speso 75 scudi. Arrivati a New York, a Castelgarda, è salita sulla nave la commissione per la visita medica. Ci guardavano gli occhi e se avevamo lernia. Se ti riformavano ti facevano un segno col gesso sulla schiena, come le pecore, e avevi il viaggio di ritorno pagato. Appena sbarcato abbiamo sentito gridare in italiano. Hotel Bertini! Chi vuole un albergo italiano? È bastata quella voce per darci coraggio. Noi sapevamo che a Manchester, nell'Oklahoma, c'erano una ventina di paesani di Valdieri. Siamo andati alla stazione ferroviaria. Lì era pieno di italiani in transito. Abbiamo preso il biglietto del treno e lo tenevamo bene in vista, che i conduttori del treno lo vedessero. Sono i conduttori che ci hanno indirizzato al binario giusto. Nell'Oklahoma abbiamo subito trovato gli amici, i paesani. Un bravo giovane, un certo Giraudo, ci ha detto, arrivate proprio in un bel tempo. Qui c'è sciopero. 21.000 uomini fermi. Allora abbiamo fatto festa. Siamo andati da una cugina di mia madre. Siamo allegri, ci dicevamo. Qui siamo in America. Siamo mica in Italia. Lì a Manchester, nella miniera di carbone, c'erano d'ogni qualità di gente. Lì abbiamo lavorato cinque anni. Si lavorava a contratto. Cinque, sei dollari al giorno. I soldi li mandavo quasi tutti a casa. Volevamo guadagnare. Lavoravamo fino a quando non crollavamo. Cinque, sei tonnellate al giorno era la media del lavoro. Ne facevamo sempre dieci di noi. Certi giorni facevamo lavoro doppio pur di guadagnare. C'erano italiani, francesi, americani, inglesi e tanti neri. Gente brava come noi. I bianchi, se avessero potuto, li ammazzavano tutti i neri. Disprezzavano i neri come disprezzavano noi italiani. Gli americani che facevano i colpi, che facevano i banditi, si dipingevano la faccia di nero come la padella. Così la colpa era sempre dei neri. E Kennedy, il presidente, voleva mettere i neri al pari dei bianchi. L'hanno ammazzato. Poi è venuta la guerra del 15. Io non volevo farla quella guerra. In America era una Babilonia. Non sapevano dove trovarci. C'erano i manifesti di chiamata, ma ben pochi si presentavano. Si presentava qualche meridionale che voleva tornare a casa con il viaggio di ritorno pagato. Bisognava non avere bisogno di carte, di documenti dagli uffici. Poi era quasi impossibile che ci trovassero. Mi sono sposato. Mia moglie era anche lei emigrata. Era nell'Oklahoma da due anni. Ho fatto la sua conoscenza. L'ho vista a Vispa. Mi ha detto sì. Aveva 14 anni e 23 giorni. Quando siamo andati al matrimonio office, il segretario ha detto al capo ufficio, John, troppo giovane. E io ho risposto, Orengo, tira avanti. Poi ho lavorato anche nelle miniere di ferro del Michigan, a Crystal Fars. Ricordo che in quei tempi è successa la faccenda di Sacco e Vanzetti. Hanno fatto una colletta. Io ho dato 50 soldi per salvarli. Nel 1921 io volevo ancora restare in America. Quel diavolo lì della mia donna mi ha trascinato via. Ha voluto ripatriare. Diceva che avevamo già troppi soldi. Ma arrivato a Valdieri ho capito subito che i soldi erano pochi. E nel 1922 siamo ripartiti per l'America. Ci siamo lasciati alle spalle il fascismo. Anche a Valdieri era successa la baruffa. Pinotu de Becia e i suoi figli erano introdotti nei socialisti. Avevano un coraggio d'assassino. E se l'erano vista brutta. Anche Barilot, anche Vernera se l'erano vista brutta. Barilot sapeva dove era nascosta la bandiera socialista. I fascisti e la polizia la volevano la bandiera. Ma Barilot con uno strappone è scappato. Gli hanno sparato. L'hanno ferito. Dopo il cimitero dal pilone Barilot è riuscito a nascondersi in un tubo dell'acqua a salvarsi. Tornato in America ho lavorato nelle vigne di Los Angeles in un'azienda di 6.000 giornate. 30.000 tonnellate d'uva facevamo. Vini di tutte le qualità. Toccai, Angelica, Portos e poi i vini da tavola. Io lavoravo nella vineria. In Italia c'era il fascismo. Ma in America ridevano il fascismo. Ci dicevano voi avete un solo re, un solo king. Invece noi ne abbiamo tanti king. Abbiamo Barben, il re delle patate, e Morgan, il re delle banche, e Rockefeller, il re del petrolio. Nel 1930 siamo tornati per sempre a Valdieri. Mia moglie diceva che pativa l'aria dell'America. Ma erano tutte storie. Era più forte di un cannone. A dire la verità, quando ero in America, avevo sempre un po' in testa l'Italia, la nostalgia. Eravamo un po' come i Colombi che vogliono sempre tornare nel posto da dove sono partiti. Mio fratello Bruno. Bruno in America è stato solo otto mesi. Poi mio padre gli ha scritto. È tornato a Valdieri perché c'era il posto da guardacacaccia. Un giorno Bruno ha chiesto a sua maestà. Maestà, adesso tocca anche a noi andare in guerra? È il re. I primi ad andare in guerra siete voi. Si è dovuto fare tutta la guerra del 1915-18 e poi è tornato a fare il guardacacaccia. Io a Valdieri ho ripreso a fare l'usatè. L'ho poi fatto fino al 1966. Con i risparmi dell'America mi sono comprato tre giornate di terra e mi sono fatto fare questa casa. Se in quei tempi là ne andavano anche tanti in Argentina? Sì sì ne andavano e qualcuno si è fermato là. Se erano delle famiglie grosse o a poco a poco compravano della terra e facevano fortuna. Là trovavano a sposarsi. Gran parte di quelli che sono andati nell'America del Nord sono tornati a Valdieri. Nell'America del Nord sposarsi con un'americana voleva dire sposarsi male, altre abitudini, altre teste. Ma se uno voleva sposarsi la donna prima cosa gli chiedeva se aveva la macchina, l'automobile. Oggi la vita è cambiata. Uuuuh è cambiata tanto. Cambiate meglio. Andiamo troppo bene adesso. Ho letto un articolo qualche giorno fa. Diceva che i senatori e i ministri hanno paghe pensioni favolose e c'è camorra molto più favolosa. E loro litigano e ridono. Ma non possiamo farli andare in prigione. Loro sono quelli che fanno mettere in prigione noi. Ma andiamo bene. Non dobbiamo lamentarci troppo. I giovani di oggi. Tanti birbanti. A volte io conto loro le nostre miserie di quei tempi là. E ridono. E sa cosa dicono? Dicono che noi eravamo stupidi. Perché non l'hanno mica provata quella vita. Ai nostri tempi anche loro sarebbero stati stupidi come noi. Se credo che l'uomo va nella luna? Sì che ci credo. Se fossi giovane vorrei andarci anch'io nella luna. Ma per lucro. Ne hanno parlato tanti giornali. E leggo sempre il giornale. Tutti i giorni. Peccato che non ho le scuole. E non capisco tutto. Ho solo fatto la quarta elementare. All'esame di quarta non meritavamo la seconda. Ma ci promuovevano lo stesso pur di farci fuori. La scuola di allora era povera. Andavamo a scuola portando sotto il braccio un pezzo di legna da ardere. Faceva così freddo nella scuola che la penna scappava dalle dita gelate. Chi non crede che l'uomo va nella luna è indietro di musica. Capisce poco. Che mentalità che hanno. Non credono alla realtà. Vogliono aspettare che il supremo venga giù a dirglielo. Ma tante teste tante idee. C'era uno che avrebbe voluto diventare un rospo. Perché i rospi quando fanno quella cosa là stanno uno sopra l'altro un anno. Cristo fosse così tanti lascerebbero le patate da scalzare. Grazie a tutti.